Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, docente ed esperto certificato di didattica digitale. In questo video corso osserviamo come il docente possa accedere per svolgere la lezione sincrona in audio video con piattaforma ABB Fondazione Franchi. Attenzione, il docente entra con email e password che sono state comunicate e sono codificate di istituto, quindi ogni docente usa solo quelle credenziali lì e non dovrà mai modificare la password. La piattaforma ABB non è profilante in alcuna maniera, nel docente e negli alunni dovranno mai registrarsi. Questo è un accesso normato di istituto. La piattaforma ABB per avere adeguata competenza digitale nostra e da opporre alle famiglie o per chiacchierarne tra colleghi è perfettamente normata per l'utilizzo nel contesto scolastico e oserei dire che è tra le pochissime che possano fare questo perché risponde al GDPR, Regolamento Europeo per la Privacy, all'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD, alla sentenza Schrems 2, luglio 2020, Commissione Europea, nella quale in estrema sintesi si invita, cioè c'è quasi un monito ad utilizzare piattaforme derivanti dalle multinazionali del software estere perché potrebbero non dichiarare in una maniera consona come utilizzino i nostri dati. Quindi la motivazione, l'adozione della piattaforma a scuola non è dettata dal gusto ma da una adeguata competenza digitale dell'istituto stesso e del docente. Qui ho preso un istituto campione, in questo caso l'istituto comprensivo CAVUR. Il docente cosa fa? Entra e ciascuno entra con quelle credenziali lì, poi clicca sulla sua classe perché ho replicato in digitale il contesto della classe dal vivo. A questo punto io clicco sulla classe e attenzione bene, se ci sono quei due triangolini che avete visto nella schermata precedente il simbolo del pausa da telecomando, significa che la classe effettivamente non è utilizzata ed è stata ben chiusa. Quello che vediamo qui a sinistra, ho cliccato sul tasto copia, è il link univoco da comunicare alle famiglie tramite mezzo idoneo e le famiglie accedono solo con quello. Requisito fondamentale tra i pochissimi per famiglie e docenti, utilizzare i browser maggiormente compatibili con le piattaforme didattiche che sono Google Chrome, Mozilla, Firefox, non un'altra tipologia di browser per limitare al massimo qualsivoglia malfunzionamento. Il docente quando entra clicca su inserisci il tuo nome e va a digitare il suo nome, maestra Claudia, maestro Andrea, prof cartotto, in base all'ordine di istruzione in cui ci troviamo, clicco su avvia. Consiglio estremamente prudente di utilizzare un microfono cuffia ed un computer nello svolgimento della lezione, lato docente. Pur se hub risulta perfettamente multipiattaforma, dunque compatibile con tutti i dispositivi e di sistemi operativi, perché non ha bisogno di una app specifica, ma si consulta via browser. Il docente fa quello che abbiamo appena visto, clicca sul pulsante microfono, clicca se gli viene richiesto su consenti da browser, attende alcuni secondi e comunque il docente, ricordiamolo, in ogni caso nella didattica sincrona accede per primo ed esce da ultimo. Questo è il test audio, in realtà mi sento come eco, in questo caso mi sentite anche perché sto utilizzando un microfono professionale e non il microfono cuffia, altrimenti non sentite neppure questo. Un clic sul pollice verde, siamo in classe, pulsantiera principale di hub per la gestione, microfono attivo inattivo, la cornetta da non usare perché sgancia l'audio dalla piattaforma, quindi quel pulsante non lo utilizzo, attivo inattivo la videocamera e ricordiamoci che la didattica sincrona non è vedere tutti gli alunni sempre ed in simultanea, perché questo è un carico di lavoro che grava su qualunque piattaforma. Faccio attivare la webcam dell'alunno di riferimento o il piccolo gruppo di alunni che tra loro parla per lo svolgimento della lezione, ma non una intera classe in simultanea, pensando che magari sullo stesso server ci siano anche tutte le altre classi. Quarto pulsante, il pulsante per la condivisione dello schermo, ce l'ha solo l'insegnante. Il tasto più che noi abbiamo nel cruscotto principale di hub consente di gestisci presentazione, quindi questa funzione che cosa è? Mi consente di caricare in autonomia come lavagna qualsiasi documento io abbia nei principali formati ed io consiglio formati quali il pdf o un formato standard per la videoscrittura quale l'odt o formati immagine quali il jpeg o il png. Il tasto condividi un video esterno consente tramite il copia e incolla da youtube, da vimeo ed altre piattaforme di condividere in sincrono in audio e in video un filmato con gli alunni. Quindi ribadisco è solo un copia e incolla. Il pulsante più e dunque l'avvia un sondaggio ci consente di avere una interazione con i nostri alunni proponendo un quiz. Le funzioni di gestione operativa di hub saranno poi approfondite in un ulteriore videocorso. Questo è dedicato all'accesso docente. Ricordo in ultimo che io gestisco comodamente la mia classe da questo ingranaggio dalla rotellina dentata dove ho l'elenco degli utenti. Con un clic vado poi a cliccare silenzio a tutti gli utenti eccetto il presentatore ho ovviato all'eventuale non capacità o ad un momento magari l'are degli alunni silenziando all'istante i microfoni ed avendo il polso della lezione. Quando la lezione è perfettamente svolta il docente dell'ultima ora che cosa fa? Clicca sui tre pallini in alto a destra e clicca su fine meeting. Mentre il docente del team del consiglio di classe che esce perché c'è un cambio dell'ora o è il docente di sostegno che ha terminato fa esci. Lo ricordo bene fine meeting chiude la stanza e nessuno mai rientrerà che il docente non voglia. Esci è solo solo demandato al cambio dell'ora o al docente di sostegno che esca dalla classe o all'accesso della dirigente per un controllo e per un saluto e naturalmente quando il dirigente o la dirigente escono non vanno a chiudere la stanza dove c'è la lezione in sincrono in svolgimento. Con un clic su fine meeting e vado a confermare con un clic su sì veniamo riportati a questa schermata dove dobbiamo cliccare su ok e la procedura operativa del docente può dunque considerarsi conclusa.